Musica Bentornati, bentornati in nostra compagnia, edizione breve del giornale per dare la linea allo sport in apertura alla cronaca da Francavilla Fontana con il triplice arresto dell'escorsione di quelli che sarebbero i presunti autori dell'omicidio di Paolo Stasi nel centro del brindisino e gratitudine nei confronti degli inquirenti da parte del primo cittadino in carica, Antonello Denuzzo. Droga, ammazzato per droga, per un debito di 5.000 euro, tanto secondo le indagini era stata valutata la vita di Paolo Stasi il 19enne ucciso con due colpi di pistola lo scorso 9 novembre dal suo presunto assassino, il 18enne di Francavilla Fontana Luigi Borracino arrestato all'alba di lunedì insieme al presunto complice, il 21enne Cristian Candita entrambi si trovano ora nel carcere di Brindisi con l'accusa di omicidio volontario premeditato dei futili motivi e nei guai, oltre ad un altro giovanissimo della città degli imperiali, ristretto dai domiciliari ci finiscono anche le fidanzate dei due indagati principali per cui è scattato l'obbligo di dimora con l'esecuzione delle cinque ordinanze firmate dai rispettivi GIP su richiesta delle procure di Brindisi e dei minorenni di Lecce si chiude a distanza di sei mesi e più il primo step di indagini sull'omicidio del ragazzo freddato sull'uscio della sua abitazione di via Occhi Bianchi insomma i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e del nucleo investigativo di Brindisi sono certi di aver chiuso il cerchio, di aver ricostruito con interezza cosa accadde quel pomeriggio del 9 novembre del 2022 quel giorno Candita, questa è la ricostruzione, guida l'auto su cui c'è anche seduto sul sedile posteriore Boracino all'epoca ancora 17enne, sarebbe stato proprio il minore amico di Paolo ad attirare il ragazzo sull'uscio della sua abitazione con una telefonata quindi mentre l'auto resta in sosta nei pressi di via Occhi Bianchi il minore arriva a piedi davanti alla porta di casa di Paolo che viene ucciso da due proiettili esplosi dall'arma impugnata secondo l'accusa da Boracino i due ragazzi scappano via, sempre in auto la presunta dinamica è affidata all'ordinanza che in mattinata ha portato agli arresti le immagini di videosorveglianza ma anche le intercettazioni ambientali il quadro indiziario è pesante a carico dei cinque indagati e sì, perché a finire nei guai anche le fidanzate di Boracino e Candita 24 e 20 anni e un ventenne ai domiciliari i tre non hanno partecipato in prima persona all'omicidio ma sarebbero coinvolti in quello spaccio di marijuana custodita da Paolo nell'appartamento di via Occhi Bianchi che farebbe da sfondo all'intera vicenda e infatti indagate a piede libero per detenzione ci sono altre tre persone tra cui la mamma di Paolo annunziata ad Enrico che agli inquirenti aveva confessato la presenza della droga in casa mamma annunzia che al dolore per la morte dell'amato figlio aveva unito anche il coraggio e la rabbia di indicare il presunto assassino e quello delle ultime ore è uno snodo che dunque riapre la questione del presunto movente alla base dell'omicidio la procura di Brindisi parla di futili motivi per definire il movente del delitto di Paolo Stasi ma la fredda sintassi giudiziaria non può neanche lontanamente rendere l'idea dell'enorme disparità esistente tra un debito di 5.000 euro e la morte di un ragazzo di soli 19 anni perché ora che i retroscena sembrano essere stati chiariti l'arresto dei presunti autori del delitto soddisfa senza dubbio il desiderio di giustizia ma rende ancora più inquietante lo scenario all'interno del quale l'omicidio sarebbe avvenuto le avvisaglie c'erano state nelle settimane precedenti proprio a Francavilla Fontana quando una serie di violentissime aggressioni dettate anch'esse da motivazioni banali e che avevano visto protagonisti giovanissimi erano suonate molto più di un semplice campanello d'allarme erano il segnale che l'asticella era stata ormai alzata troppo e che il passare alle vie di fatto anche in situazioni in cui un tempo i dissidi sarebbero stati risolti con una semplice e animata discussione era divenuto parte integrante di una concezione estremamente violenta da parte di bande di giovanissimi l'omicidio di Paolo Stasi scatenato dalla rabbia di un ragazzo che frequentava da tempo come amico di famiglia la sua abitazione innescato da un debito di poche migliaia di euro pianificato con cura ed eseguito con la stessa tecnica mutuata dalle serie televisive di Camorra rappresenta una degenerazione sulla quale sarà necessario riflettere perché l'inchiesta condotta dai carabinieri non descrive solo un episodio casuale di foglia criminale ma un contesto ben più esteso di cui persino le fidanzate dei due presunti killer erano consapevole parte integrante nel quale dopo il delitto lo stesso gruppo di pusher non si ferma neanche un attimo ma continua a spacciare la droga in cui con il cadavere di Paolo ancora caldo si pensa a sostituirlo subito con un altro ragazzo come custode della sostanza stupefacente come se nulla fosse accaduto come se l'eliminazione di un 19enne per 5.000 euro fosse un incidente di percorso da questa vicenda emerge un contesto deviato di cui tutti quanti dovremmo farci carico e nel quale l'ultimo aspetto ma non il meno inquietante è costituito dalla presenza tra gli indagati per spaccio anche della madre del ragazzo ucciso è stata la sua scelta di collaborare a consentire ai carabinieri di imboccare la pista giusta e questo è stato per lei un passo fondamentale verso la risalita ma il suo ruolo di genitore deve farci comunque riflettere su quante responsabilità hanno in effetti gli adulti nella possibile degenerazione violenta e criminale dei loro figli e chiudiamo questa pagina con le parole del primo cittadino il pensiero di una vita spezzata che è quella del povero Paolo Stasi e anche il pensiero del coinvolgimento di persone che per quello che è dato sapere sono molto giovani non lascia spazio a molte altre considerazioni noi siamo sollevati come comunità di Francavilla Fontana che le indagini siano approdate ad un risultato non c'è molto altro da dire in questa fase che resta delicatissima si tratta di responsabilità che devono essere naturalmente accertate nelle sedi opportune però da una parte il sollievo è un senso di gratitudine verso gli inquirenti verso le forze dell'ordine non abbiamo mai dubitato che il lavoro pur complicato sia stato condotto al meglio delle capacità di ognuno e ci spostiamo in provincia di Foggia proseguono le indagini relativi all'agguato mortale costato la vita il 20 maggio a Salvatore Principe ritenuto dagli inquirenti boss della zona due colpi di fucile uno al volto l'altro al torace esplose a distanza ravvicinate quanto bastato ad uccidere Salvatore Principe 59 anni storico boss della società foggiana e a riaccendere il timore di una violenta faida tra clane nel capoluogo Dauno l'uomo nome di spicco della mafia foggiana perché ritenuto esponente del clan Triscioglio Principe Tolonese è stato ucciso durante un agguato avvenuto intorno alle ore 21 del 20 maggio in Viale Kennedy alla periferia del capoluogo nel quartiere Cep Principe era da poco uscito di casa dove viveva con l'anziana madre era solo fermo in auto pare stesse aspettando un parente quando all'improvviso un sicario lo ha raggiunto a piedi aveva il volto coperto ha esploso una prima fucilata infrangendo il parabrezza e colpendo il vecchio boss al torace poi una seconda fucilata dritta al volto subito dopo il sicario è scappato via ad attenderlo a pochi decini di metri di distanza un complice alla guida di un'auto probabilmente una Fiat Grande Punto ritrovata carbonizzata in via Sprecacenere in un terreno agricolo all'estrema periferia di Foggia l'allarme agli operatori del 118 è stato lanciato da alcuni residenti della zona gli stessi che hanno assistito all'agguato e che con le loro testimonianze hanno contribuito alla ricostruzione della dinamica dei fatti in nottata gli agenti della squadra mobile hanno poi eseguito una dozzina tra perquisizioni e stub accertamenti eseguiti fa sapere chi indaga pregiudicati appartenenti alle batterie criminali rivali quella dei moretti di Pellegrino Lanza e quella dei sinesi Francavilla gli investigatori stanno anche visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti lungo il presunto percorso di fuga dei due sicari si indaga dunque per risalire al movente Principe scampò miracolosamente ad un agguato compiuto in un bar il 21 settembre del 1999 quando a morire a causa di un proiettile vagante fu un innocente Matteo Di Candi a 62 anni pensionato che in quel momento si trovava nel locale per festeggiare il suo onomastico la politica con il rientro dall'estero della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma anche con la macchina degli aiuti messa in moto in favore dell'Emilia Romagna che finisce altrettanto al centro del dibattito sentiamo come per risarcire l'Emilia Romagna dai danni subiti il governo interverrà con propri fondi senza far ricorso al PNRR che ha un percorso differente e quanto afferma il Ministro Raffaele Fitto la stessa Premier che ha visitato i luoghi colpiti dall'alluvione è stata chiara sono contenta che si parli del PNRR perché evidentemente si è d'accordo sul fatto che in alcuni casi le risorse devi spendere nel migliore modo possibile anche ridiscutendo se è necessario qualcosa che è meno urgente però io credo che in questa fase occorra lavorare più su altri fondi che riguardano anche l'Europa era stata la segretaria del Partito Democratico a chiedere di utilizzare parte dei fondi del PNRR sulla prevenzione del dissesto idrogeologico stessa linea politica dei pentastellati occorre spendere i fondi già stanziati per contrastare il dissesto idrogeologico a partire da quelli del PNRR su cui il governo deve agire subito invece che fare serie di polemiche la proposta di utilizzare i fondi non spendibili del PNRR per fare attività immediatamente cantirabile di prevenzione e cura contro il dissesto idrogeologico è una buona notizia all'interno del PNRR ci sono risorse per il dissesto ma sono per progetti specifici una strada da percorrere potrebbe essere quella dei fondi di coesione oggi il PD si sveglia e ritiene che i tempi siano diversi e utili anche per fare queste modifiche noi riteniamo comunque che intanto i soldi vadano spesi se ci sono margini della Commissione Europea ma pare che noi ce ne siano faremo le modifiche necessarie anche per le milie romani è una delle fonti su cui certamente si può fare affidamento ma anche lì non basteranno lo strumento poi verrà individuato tecnicamente e politicamente l'importante è dare risposta credo che a chi è immerso nel fango non interessi capire in quale capitolo in quale virgola del bilancio arrivano l'importante è far arrivare i soldi una location che abbia le bellezze le infrastrutture i sentimenti della Puglia così Michele Emiliano traccia l'identikit del possibile luogo che il prossimo anno sarà chiamato ad accogliere il G7 annunciato nel fine settimana dalla Presidente del Consiglio noi lo abbiamo ascoltato quali potrebbero essere le eventuali location si parla di Otranto è un segreto assoluto e non spetta certo a me diciamo individuare la location spetta al Presidente del Consiglio al Governo a noi spetta solo collaborare e devo dire anche ringraziare il Governo italiano perché normalmente si va in un luogo che ha innanzitutto la capacità di gestire un evento del genere che è senza precedenti nella storia della Puglia per dimensione importanza politica e anche devo dire delicatezza sicurezza tutti elementi che riconoscono la Puglia per esempio anche il fatto che c'è un dispositivo di protezione che deriva dal schieramento delle forze armate di terra di mare e di aria in Puglia che è il più importante d'Italia e d'altra parte poi occorre anche un significato simbolico e quindi è chiaro che in questo momento San Nicola che è stato esplicitamente coinvolto dalla Premier sia pure senza nominarlo è il ponte che collega l'Occidente e l'Oriente ovviamente San Nicola ricordo il patrono della Puglia non solo di Bari quindi potrebbe essere Bari secondo lei una location ideale no no non ho detto affatto questo ho detto solo che deve rappresentare la Puglia nel suo complesso quindi potrebbe essere un qualunque posto che rappresenti in quel momento lo sforzo di accoglienza che noi facciamo verso chiunque in nome della pace e del dialogo tra le nazioni quindi qualunque posto va bene ce ne sono tanti e adesso una pagina che parla del marcio di avvicinamento ai prossimi vallottaggi della politica che si muove sui territori perché intanto a Taranto è stata giornata di consultazioni vediamo con quali i risultati la richiesta è chiara andare avanti con la maggioranza uscita dalle urne e accelerare la realizzazione del programma elettorale e questa è la posizione del gruppo con espressa al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nella mattinata di lunedì nel corso delle consultazioni per verificare la tenuta della maggioranza all'incontro di Palazzo di Città hanno partecipato l'assessore regionale Gianfranco Lopani il presidente del consiglio comunale Viro Bitetti i consiglieri comunali Patrizia Mignolo e Stefania Fornaro e il coordinatore cittadino Francesco Andrea Falcone per noi la maggioranza è quella che è venuta fuori dalle urne i progetti il programma elettorale saranno posti all'attenzione del consiglio comunale e siccome riteniamo che saranno progetti e atti amministrativi importanti noi naturalmente puntiamo al fatto che abbiano un consenso sempre più vasto all'interno del consiglio comunale noi sui programmi riteniamo che si debba a giocare la partita delle coalizioni politiche rappresentano per noi un obiettivo imprescindibile dalla vice sindaco Manzulli nel frattempo arriva un messaggio di serenità la linea è quella di portare avanti il programma così come abbiamo concordato con i cittadini di continuare a lavorare intensamente per il recupero della città come abbiamo già cominciato a fare da qualche anno dopo questa parte dopo la chiusura con i 5 Stelle Melucci dovrà trovare una quadra difficile con il dilemma legato all'ingresso in maggioranza dei consiglieri di Italia Viva Stellato e Casula Brindisi invece si avvia al secondo turno delle comunali senza apparentamenti senza accordi formali liberi tutti almeno ufficialmente Lino Luperto e Riccardo Rossi candidati che hanno interrotto al primo turno la corsa alla carica di sindaco di Brindisi non faranno apparentamenti nessun accordo dunque con i due sfidanti al ballottaggio Pino Marchionna e Roberto Fusco la decisione adesso è ufficiale giunge dopo giornate piuttosto intense sul piano della trattativa perché sì gli incontri ci sono stati e come e anche di natura trasversale Luperti di area centrodestra e sostenuto da Movimento Regione Salento e Uguaglianza Cittadina ha specificato che avrebbe volentieri sottoscritto accordi solo in presenza di apparentamenti ufficiali facendo intendere in poche parole che gli sarebbe stato richiesto o proposto un sostegno sotto banco in cambio di si legge in una nota incarichi e posizioni di prestigio nessun accordo neppure per il sindaco uscente Riccardo Rossi che tuttavia nonostante le ruggini con i vecchi amici del PD qualche timido corteggiamento pare lo abbia ricevuto anche qui però nulla di fatto avremmo accettato solo in caso di apparentamenti politici ufficiali e non incarichi o poltrone ha chiarito Rossi ma a differenza di quanto dichiarato e sbandierato e 420 da Fusco e dai suoi sostenitori fino a poche ore prima delle elezioni evidentemente non c'era alcuna volontà di andare ancora avanti insieme niente apparentamenti dunque e allora il vero e unico elemento che in questo secondo turno potrà confermare o ribaltare il risultato della prima tornata elettorale sarà quello dell'affluenza spesso variabile impazzita in sede di ballottaggio Gran finale pirotecnico a Biceglie da una parte c'è una intesa politica dall'altra c'è un apparentamento tecnico così Attesissimo il ballottaggio a Biceglie e gli schieramenti prendono posizione con una originale discesa in campo al duello si sfideranno il sindaco uscente Angelo Antonio Angarano che al primo turno ha conquistato il 36,88% dei consensi e Francesco Spina che invece ha raggiunto il 34,30% dei voti fin qui nulla di anomalo il tocco di stile subentra con il terzo in classifica Vittorio Fata candidato al primo turno per la coalizione DEM è rimasto fuori dal gioco per il suo 24,64% con un accordo di marca emilianista del governatore pugliese Fata ha scelto di sostenere Angarano con un accordo politico il colore però lo ha dato il candidato di una delle sue liste Alfonso Russo che invece si apparenta ufficialmente con Francesco Spina Vittorio Fata dunque invita i suoi elettori ad esprimersi in favore di Angelo Antonio Angarano mentre uno dei suoi uomini combatterà al fianco di Francesco Spina avevamo detto che saremmo stati al tavolo di chi voleva innanzitutto condividere un progetto per la città e una visione e così è stato L'apparentamento formale consente di avere un programma unitario perché si entra in coalizione Non acquistiamo candidati perché promettiamo posizioni noi facciamo della politica qualcosa di nobile Su che basi si è fatto questo accordo politico io ritengo che sia poco etico e non confacente al buon ton né personale né politico dei due candidati che si sono scannati fino a ieri Da un lato un accordo politico dall'altro un apparentamento nel mezzo una crepa nella linea d'insieme di Vittorio Fata Le armi sono state così affilate ora si attende lo spettacolo Il lavoro Network Contact il sit-in di protesta nel capoluogo 4.000 ai piedi di Palazzo del Governo a Bari C'è sempre stato detto che siamo una famiglia e così ci dobbiamo comportare da famiglia nel bene e nel male Ma l'azienda non si comporta come tale? In questi ultimi anni assolutamente no Tre anni e mezzo non sono tanti ma questo non vuol dire che non ho fatto progetti per cui spostarmi non è accettabile né tantomeno mettere le mani al nostro stipendio Il dissidio tra trasferimento o perdita del posto di lavoro Network Contact di Molfetta oltre 4.000 dipendenti che da settimane lottano contro manovre aziendali sul contratto e su un potenziale trasferimento delle attività nella sede di Palermo in più di 500 hanno manifestato ai piedi della prefettura di Bari per chiedere un percorso che ricalcasse l'accordo del 2019 cosa che l'azienda pare abbia rifiutato come sottolineano SLC, CGL Wilcom, UGL Telecomunicazioni e Fistet CISL La network Contax di Contro ha posto in atto un piano di azioni correttive con trasferimenti coatti verso la sede siciliana presunto polo specialistico per le TLC di circa 150 lavoratori già in Fist per riduzione di volumi dicono i sindacati la richiesta dei confederati e non solo è quella di tracciare una linea zero e ripartire e per questo hanno chiesto l'intercessione del prefetto di Bari Antonella Bellomo che si sarebbe resa disponibile a sedersi al tavolo delle trattative 12 lei è 12 anni ovviamente avrà fatto dei progetti nella sua vita certo una famiglia un muto due figlie e come si fa non si può non si può non si fa sono senza parole senza parole non comment presentato a potenza invece il rapporto Ires CGL su Stellantis ma anche sul futuro dell'automotive in Basilicata questo il quadro emerso una riduzione del PIL regionale del 7% due terzi in meno in termini di export lucano e la perdita di 14.200 addetti del settore con il calo del 7,5% dell'occupazione regionale totale il Vulture Melfese diverrebbe una delle più gravi aree di crisi del paese perdendo il 38% della sua occupazione Melfi rischierebbe di perdere il 28% della sua consistenza e con gli effetti successivi di riduzione della natalità potrebbe desertificarsi nel giro di 20 anni questi i dati allarmanti emersi dal rapporto presentato a potenza e redatto dal direttore scientifico di Ires CGL Basilicata Riccardo Achilli sugli effetti di una dismissione della produzione automotivi in Basilicata da parte di Stellantis emerge un quadro drammatico rispetto ad un'ipotesi di dismissione totale di Stellantis di tutto l'indotto le ripercussioni rispetto ad uno scenario di questo tipo sono molteplici ci sono effetti devastanti soprattutto su ciò che comporta sull'occupazione sul spopolamento della Basilicata bisogna aprire un tavolo un'avvertenza con il governo nazionale perché bisogna mettere al centro una politica industriale dell'automotive cosa che stanno facendo gli altri paesi in Europa invece questo governo continua a lasciar fare alle imprese e le imprese continuano a desertificare l'industria e a come dire esportare il lavoro altrove l'ex biblioteca della provincia di Taranto diventa sportello di orientamento al cittadino facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro questo l'obiettivo avviando modelli di intervento innovativi per ottimizzare il processo formativo della persona è stato aperto presso la sala la caita palazzo del governo a Taranto uno sportello a cui potranno rivolgersi coloro che hanno necessità di essere orientati al lavoro a disposizione dell'utenza per 24 settimane dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 14 e 30 ci saranno professionisti esperti in materia di orientamento il soggetto verrà seguito e supportato nel percorso che dovrà portarlo a prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale orientamento che è il tema principale del progetto rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie ai disoccupati agli inoccupati e fin anche alle famiglie di tutti i soggetti interessati al progetto quindi l'utenza è molto vasta le attività che saranno posti in essere sono quella dello sportello che è partito appunto stamattina e durerà fino al 31 ottobre i sei mesi previsti per il progetto si affiancheranno a questa azione dei laboratori 300 ore di laboratorio saranno 50 laboratori della durata di 6 ore cada uno e poi ci saranno 8 job days che saranno le occasioni per fare un po' il punto dell'attività svolta nell'ambito delle altre attività ed anche l'occasione per presentare ai giovani all'utenza le possibilità di inserimento nel mondo lavorativo sia privato che pubblico tutto nasce dal progetto rete ionica di orientamento un programma della provincia di Taranto ammesso a finanziamento della regione Puglia abbattere le emissioni di CO2 mettere in campo strategie verdi all'insegna della sostenibilità tanto più nei porti sarà discusso a Bari la sostenibilità nei porti passa anche attraverso la semplificazione in un momento storico in cui dopo pandemia guerra aumento dei costi delle materie prime e l'inflazione hanno cambiato anche la logistica internazionale parlare di porti green significa tracciare una direzione chiara in fatto di scelte sostenibili dato che lo shipping genera il 2.15% delle emissioni mondiali di CO2 pur movimentando gran parte delle merci e il 2022 è stato l'anno dell'impennata dei carburanti alternativi di questo si è parlato nel corso dell'appuntamento nel terminal crociere al porto di Bari sulla sostenibilità ambientale c'è una normativa precisa a livello comunitario che porta le aziende a essere certificate ESG non solo loro la singola azienda ma anche nel canale clienti e nel canale fornitori quindi l'urgenza deriva proprio dal fatto che tutto questo andrà a regime nel 2026 con il recepimento dell'ultimissima direttiva che è stata proprio promulgata all'inizio di quest'anno quindi è un tema urgente è un tema importante è un tema normativo e le imprese devono avviarsi perché il percorso è un percorso impegnativo quindi una filiera lunga che potrà rendere l'energia più sostenibile alle imprese ai trasportatori e soprattutto permetterci di assorbire senza danni la transizione la decarbonizzazione e penso soprattutto a quelle aree in tipo Taranto ma soprattutto nei miei porti Brindisi in cui la transizione ha un costo umano che è insopportabile il welfare perché a Lecce è pronta ad aprire i battenti la prima casa di quartiere nel quartiere San Giovanni Battista vediamo di che si tratta non so se qualcuno mai si è trovato nella situazione che la sera viene una donna se mai prima le ha prese dal marito o è stata cacciata da casa e ti dice non so dove andare a dormire questa sera con che coraggio uno va a casa a dormire in un letto caldo d'inverno sapendo che un'altra sorella forse starà in un portone sotto un ponte a qualche parte da qui è nata l'idea così il 23 giugno nella zona 167 di Lecce aprirà la prima casa di quartiere che accoglierà dieci donne vittime di maltrattamento grazie all'idea avuta da Don Gerardo Ippolito parroco di San Giovanni Battista e dalla Diocesi con la collaborazione di tutte le associazioni di quartiere però per poter completare questa casa c'è bisogno del contributo di tutta la comunità sarà un faro di luce di amore per tutto il quartiere ma da solo non ce la faccio abbiamo bisogno di tutto dai letti ai comodini alle sedie a tutto l'arredo sono dieci persone che staranno qui qualunque cosa è ben accetto è un luogo che accoglierà invece in modo uguale tutti quanti allo stesso livello perché ogni storia verrà abbracciata per quello che ci porterà e grazie alla quale potremo crescere si può aiutare attraverso un IBAN che daremo informativo sia della parrocchia chi vorrà farlo direttamente a Don Gerardo sia attraverso noi ma anche alle altre diciamo associazioni che sono qui solidarietà si fa insieme e non da soli per ottenere un buon risultato dobbiamo essere in tanti paura in tribunale a Lecce nelle scorse ore vediamo perché paura presso il tribunale civile di via Brenta a Lecce immattinato un uomo in seguito all'esito di un'udienza che lo vedeva coinvolto si è cosparso di benzina al quinto piano del palazzo di giustizia con l'intenzione di darsi fuoco secondo le indiscrezioni l'uomo avrebbe perso una causa che lo vedeva vittima di uno sfratto ed ha pensato al gesto estremo per far comprendere il dramma che stava affrontando e per cercare un aiuto sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri del comando provinciale di Lecce e che una volta calmato l'uomo hanno riportato l'ordine nel palazzo di giustizia ed hanno liberato gli operatori del 118 intervenuti in caso di emergenza ci fermiamo la linea va alla prima serata di sport e poi al labirinti con il post voto delle comunali è quello che c'è da sapere sui ballottaggi intanto arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia